Nuova puntata di video assaggi oggi vado ad assaggiare... vabbè non li vado ad assaggiare io li vado ad assaggiare... la signorina e assaggia... lei! si sacrifica lei anche se non l'avevo molto cominta allora, Rosy andrà ad assaggiare le delizie del giorno e della marca... Cesar assaggiate questo che sono... senza zuccheri aggiunti senza raccoloranti questi dovrebbero essere buoni contenerò pollo e verdure miste carne e derivati di pollo, ortaggi piselli, carote vabbè insomma Rosy non tappellino e poi queste ricette di campagna con manzo e tacchino in una deliziosa salsa quindi tutti quelli che amano i cani prendete nota se non stira le zampe lei che sono buoni andiamo a vedere se riusciamo a farlo maggiare allora speriamo che Rosy ci abbia fame io ho messo anche la ciotolina nell'acqua in modo che se il cibo fa schifo lo comita direttamente la nostra stara è pronta e andiamo prima ad assaggiare vediamo se riesce a ad assaggiare il primo a questo Rosy vieni e si presenta così una volta aperto un po' gelatinoso vediamo se lo mangia ah però sembra già che io mi piace questo direi rosy pollice su rosy approve ahahah dai questo gli piace andiamo direttamente con il secondo ok allora il primo vi è piaciuto quindi rosy approved bevi un po' d'acqua adesso adesso andiamo con il secondo che è questo qui che è quello con le piselli le carotine il pollo vediamo se gli piace non so se mangia perché c'ha proprio fame e si mangerebbe pure una peggio schifezza o se è proprio perché è buono però lei ha mangiato ieri sera a cena quindi questo è il suo pranzo e lo sta mangiando proprio di gusto questo è il petto che è con tenero pollo e verdure miste oh se lo sta mangiando tutto quindi anche questo pollice su si si gli piace si si gli piace e allora rosy ha figlio di mangiare la sua pappa ti è piaciuta? peccato che non ci può dire come era ora le fai rotti spero che questa tipologia di video sia piaciuta io e rosy vi diciamo ciao al prossimo video lei è venuta qui ospite con la mia famiglia sarà un po' qui con me quindi eh rosy farò mangiare altre cose e ci vediamo al prossimo video ciao ciao rosy ciao 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 che vuole imparare, 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 imparare che sennacare, imparare, che agliantore che studiare a coparci per le tante ore il sacacol